Pierluigi Pardo e Lelle Adani vi danno il benvenuto a questa finale di Coppa Italia colpo d'occhio eccezionale, quello delle tribune, due pretendenti, una sola Coppa in palio di voler puntare forte sulla Coppa Italia e così è stato vedremo chi ne avrà di più oggi per fare l'ultimo decisivo scatto e andarsi a prendere il trofeo 32, Danilo Catani con il numero 10, Luis Alvento Coppa Italia giunta all'ultimo atto, c'è grande curiosità per vedere se riusciranno a riconfermare il titolo vinto o se dovranno cedere lo scettro ripetersi non è mai semplice, ma secondo me hanno tutte le qualità per portare di nuovo a casa la Coppa Coppa Italia giunta all'ultimo atto, c'è grande curiosità per vedere se riusciranno a riuscire a prendere il calco Comincia così la partita ha spazio lungo la Pascia occhio al cross, verso il primo palo intervento del portiere che pale come un gol e non si è lasciato sorprendere calcio d'angolo corto la mette in mezzo qui non riesco a spazzarla, non è finita e c'è il gol che apre le marcature in questa finale di Coppa Nazionale questa è l'azione del gol, da sottolineare il cross per il compagno il portiere non ha davvero più di nulla su questa girata di testa ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 Luis Alberto Ciro è immobile l'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio ha spazio per andare hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire c'è spazio per proporci tocca la palla, in fallo laterale ci sarà la rimessa da lì può andare col cross l'appoggio su Ken e c'è il gol, vuole da più due adesso mettono una serie e il fonteca sulla coppa qui ha potuto colpire da pochi metri il portiere non ha potuto fare altro per raccogliere il pallone in fondo alla rete punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero pallone che viene intercettato occhio al suo movimento sfugge qui al difensore pervento rischioso, ma ha preso la palla baragna campo si fa saltare occasione d'oro e c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza tre gol di margine adesso rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra in quadratura difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione è stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere davvero incontenibili continuano a cercare il gol e a trovarlo possono ripartire dopo il recupero del pallone ecco Ken way up occhio al cross sul primo pallone che gol fantastico ha trovato la rete con una pole spettacolare e la regia ci rimanda l'azione del gol sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso la sprovvista la difesa avversaria non ci ha pensato su due volte ha caicciato il volo trovando un gol bellissimo 4 a 0 qua c'è il pallone giusto fa la rispinta dal difensore la tocca corta sicuro il portiere buona la sua uscita contrasto riuscito palla che rotola via a metri per correre brutto errore attenzione immobile c'è l'occasione per Luis Alberto scendi la respinta palla ancora in gioco sventa la minaccia rimane a terra e l'arbitro va a verificare le sue condizioni e l'arbitro va a cercare direttore di gara ribette in gioco il pallone il dato sul possesso palla premia nettamente la formazione ospite stanno facendo quello che vogliono gli avversari non sembrano in grado di contrapporre l'adeguata fase difensiva se vanno avanti così il divario tra le due squadre potrebbe aumentare notevolmente e il portiere recupera il pallone ha spazio lungo la fascia la mette lunga sul palo lontano ha colpito il palo ma c'era comunque la posizione irregolare Luis Alberto si libera bene qui può andare da lì e c'è il gol tentativo di rimotta gol nato sugli sviluppi di questa palla lunga a scavalcare il centrocampo hanno badato più la sostanza che lo spettacolo qui il risultato ha dato loro ragione non sono certo mancati i gol oggi punteggio sul 4 a 1 avanza col pallone tra i piedi lo stesso palla a caccia del momento giusto deviazione provvidenziale che evita un gol fatto Maruzic tocco per Felipe Anderson ci sono metri per andare ha scelto bene il tempo Kamada Luis Alberto si libera alla grande il portiere può respingere il pallone che resta lì attenzione perde un pallone pericoloso occhio al cross nel mezzo palla troppo sul portiere che può controllare l'arbitro concede due minuti di recupero pallone mal calibrato e difesa che recupera se ne può andare adesso e il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta nel portiere replay del gol ecco è stato rapido si è avventato sulla rispita del portiere la messa dentro non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione poi e poi sai se i compagni non gli danno una mano squadre che rientrano agli spogliatoi al termine della prima metà di questa finale di Coppa Italia una gara che fin qui ha visto una formazione saldamente al comando potrebbe essere una tattica a parte gli scherzi hanno fatto una fatica enorme nei primi 45 minuti e lo svantaggio poteva essere ancora più è tutto pronto comincia il secondo tempo alza la testa e cerca il cross nessun problema per il portiere Kane l'arbitro dà la norma del vantaggio salda il difensore vuole da voler occhio e c'è il gol e stavolta il portiere non può nulla sulla ribattuta in rete il replay ci mostra l'azione del gol ha raccolto la respinta del portiere e l'ha messa dentro io non credo che l'estremo difensore abbia particolari colpe il pipiero ha fatto il massimo con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio Cataldi bravo Pichem che recupera Ciro immobile Luisa Alberto a metri per andare dice di no con questo intervento arriva il capo l'azione di casa lascia il campo con il numero 20 Mattia Zaccani dentro con il numero 9 Pedro occhio al tiro della bandierina tra persone che non crea problemi al portiere Kane va con il possesso palla può segnare da lì respinge qui il tiro il riflesso del portiere ma pallone ancora in gioco grande recupero l'arbitro ha fischiato perché non si è concretizzata la norma del vantaggio termina quella notita con il numero 32 Danilo Cataldi entra in campo con il numero 65 Nicolo Rovalla l'appoggio su Kane Kane è tutto solo colpisce la traversa non è finita interviene e libera intervento ruvido ma corretto traversione al centro brutto questo cross palla irraggiungibile ottimo recupero della tre quarti avversaria conclusione terminata fuori di poco maruzicce non bene la difesa qui questa palla con questa scivolata efficace non sfruttano questo possesso attenzione perché è pericoloso bel pallone filtrate ma ottima copertura possibilità di contrapiede attenzione difesa un po' aperta qui attenzione pericolo cross lungo sul secondo palo si fanno portare via la palla occhio Chesney si oppone non sfruttano Grazie a tutti. Lui Salberto. Chesney dice di no. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Attenzione all'avanzata richiesta lungo l'out. Può cercare il cross. Esecuzione da rivedere, palla che si spegne sul fondo. La formazione di casa, lascia il campo con il numero 23, Nseini del Zai. In campo con il numero 93. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Palla in verticale sull'attaccante. Palla che giungi innocua dalle parti del portiere. Ancora 600 secondi alla fine. Palla messa bene in area, ma fuori dalla portata di tutti. Pallone che è uscito, ci sarà rimessa dal fondo. Altri cinque da giocare. Una sorta di passerella per loro. A punteggio ormai acquisito. Vuole il lancio lungo, pericoloso. Intercetta bene il passaggio e non era facile. A metri davanti a sé, attenzione. Cross è sul palo più lontano. Intervento così, così, occhio. Azione che sfuma, qui poteva essere pericolosa. Vediamo come sfruttano il contropiede. Difesa avversaria è piazzata male qui. Difesa di difficoltà qui, attenzione. C'è il pressing. Si giocherà per almeno altri due minuti. Pedro. Prova a colpire il volo. E c'è il gol, accorcero le distanze. Forse un po' troppo tardi. Siamo sicuri che quegli spettatori neutrali si stiano godendo questa partita. Tanti gol, tante emozioni. L'arbitro dice che può bastare. E può cominciare soprattutto la festa dei tipoti sugli spalti. Nei giocatori in campo sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pierre, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo. E possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione. Per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match. Questo è un momento che non...